Io comincio con due scuse, una prima perché sono arrivato in ritardo ma la colpa è relativamente mia, la seconda perché dovrò andare via molto presto perché come tutti sanno il giorno di giorno c'è un passaggio di ministro impegnativo che impegnativo anche per me e quindi purtroppo dovrò andare via prima del periodo.